Grazie a tutti. Un applauso, un applauso, un applauso, un applauso, grazie signori. Un applauso, un applauso, un applauso, un applauso, grazie signori. Non fraintendete sotto sotto. Un applauso, un applauso, grazie signori. non mancare non molte persone all'arrivo, spero vi siate divertiti perché il percorso era molto bello sia per i bambini sia per gli adulti, passiamo questa bella mattinata col sole, piena estate ancora, divertimento, vedo che tutti sono contenti, sappiate che organizzare queste manifestazioni sono sempre complicazioni, permessi, responsabilità, quindi ci vuole sempre un gruppo di persone che siano sempre a disposizione, che diano una mano, che diano il loro tempo che potevano essere a casa a guardarsi la televisione o a guardarsi qualche altra, invece si sono morti da stamattina alle 8, sono andati a preparare i percorsi, hanno girato tre volte perché come al solito poi abbiamo sempre qualcuno che sposta le bambierine, che sposta i cartelli all'estero e quindi... e dobbiamo aspettare, so che siete in attesa però dobbiamo aspettare che finisce la corsa per fare le installazioni e per fare le premiazioni, appena mi comunicano qualcosa faceremo il più presto possibile, sono andati a casa a mangiare, però mangiate poco perché oggi appunto c'è la torta del barbanna all'oratorio, c'è il risotto del moreno, non so con che... con quali ingredienti dopo l'altro abbiamo fatto con gli ingredienti, una volta con le ferie, una volta con la salsiccia... bene... 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 Grazie a tutti. 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 Adesso chiamiamo il primo classificato, perché ogni anno è sempre lo stesso nome. Allora, il primo classificato è il numero 133, che ormai ha un curriculum, ormai... l'abitante di Roma, cipolla, la cipolla, 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 cipolla... qui ci sono tutti i bigliettini, io adesso estraggo due bigliettini, il primo lo mettiamo nella bicicletta, il secondo lo mettiamo nel braccialetto, poi gli altri verranno pescati a casa, questo è il numero pescato e va nel freno della bicicletta e questo è il secondo premio che va nel braccialetto, mani costi, allora in trattione un paio di mani costi, c'è un cappello con il numero 7.922, 7, 9, 2, 2 7.922, 7, 2, 3, ripassiamo un altro numero, 7.983, 7.983, sono andati tutti a casa, posso mica portarmi a casa tutti io i prezzi, e il signor Guzzetti che fa parte dell'amministrazione comunale, sai che ce ne sono un mare di prezzi, allora prendiamo la cassetta delle mele, offerta dalla frutta e verdura, i gasperini che non mi ricordano, pronti? 7, 9, 6, 6, 7, 9, 6, 6, signor Nuova, signor Nuova, la signor Nuova, si non è il signore che ha già il numero in nostra casa, è il signor Nuova, non è il signor Nuova, ma è il signor Nuova, ok? questi sono i prodotti offerti il mio c'è la mia vista dei prodotti per la panosiera il numero 7908 7908 7908 7908 eccolo qua che è arrivato un cappellino ancora una di bellezza di un cappellino che è perfetto da Beauty Boys Land di Ronald Eccettino ed è il numero 7902 7902 7902 2902 2902 3902 3903 7904 Allora è sempre buono offerto da fuggare Fuggito con una lavagnetta E abbiamo 7961 7961 Come lo porto a casa questo posto? Noi siamo a casa Quindi non perdiamo dal più piccolo Quindi adesso cominciamo con un cesto Questo è offerto da Panificio Cremona Panificio storico di Donate Numero 7979 7979 Adesso abbiamo un paio di manicotti con un cappellino E viene col numero 7.930 7.930 7.930 Il nostro cappellino Attendenti con un cappellino Allora ci sono caldo e borratta e sensori per la bicicletta, partiamo, 7.981, 7.981, 7.981, 7.981, 6, 3, 2, 1, passiamo al prossimo, numero 7.921, 7.921, qui sono caldo, 7.921, niente, mischia, mischia, 7.963, voi non volete ritirare questi prezzi, 7.963, eccolo qua, ok, il campetto, è di questo qua, qui abbiamo offerto della partizieria Frigerio, con quattro buoni, ci sono le riosci, ci sono le pizze, un da Fidacuselli, la partizieria Frigerio, è una bicicletta a forma di cavatato, è un tagliapizza, va bene, il numero 7.928, 7.928, 7.928, bella, quindi, chi crede, stasera a casa tua mangiamo pizza, eh, ok, abbiamo fatto, numero, ecco la miele, abbiamo un'altra cassetta di miele, sempre offerto da Gasperini, 7.956, 6.956, no, è Filippo, eh, vedate, la frutta è comprata, andiamo sempre con i frutti buoni di Donate Cespino, più un prodotto per capelli, Barban più clem, acconciature, 7.971, 7.971, 7.971, per i capelli non lo so, però, non so niente, non so niente, non si, non so niente, non so niente, non so niente, quindi anche se non so niente. Allora, sempre con i'omostit formi dalla parrucchiera, di Donate Creme, l'altro è già da bottega del vino, si fissano un po' mera e quindi lo lascia qua anche se un'et ripiense, 7.951 7.951 7.951 ehi adesso ho capito perché si è arrivato a te oh sì che ci siamo andiamo con questo è un trancio di è un trancio spicco di prosciutto persa dalla baccelleria con sonni 7.900 7.903 7.903 7.903 7.903 no non c'è chi prende lo stinto 3 2 1 7.906 7.906 no 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 7.906 7.906 7.906 7.906 7.906 7.906 7.934, 7.934.1, 7.934.2, arriva, arriva, allora Brunetto ti muoio o no? Ah perché c'è i monofonici, c'è tutti i biglietti della famiglia Brestano, capisci? Vediamo, vediamo. Un cartofotografie, sempre prodotti e offerti da Barbato, chi era, Glemma, 7.972. 7.972, 7.972, e 1, e 2, ah la cornice è offerta da la cattigieria Pricerio, la cattigieria Pricerio, abbiamo numero 7.976, 7.976, 7.976. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Ecco l'altro. Ok. Facciamo un pacchetto ciclismo, tappello, caldo e borraccia, manicotti e sensori, numero 7.911, 7.911. equip better不要 e lorsqu'è il caensano. Ma no è l'uno, dove è l'uno qua? siamo fermi a un pacchetto di fierbo, un piu, un piu, una bono pizza di 10 euro, frutto di noi pane, domani, e due pons, i piedi seguri dopo. Ristorante e pizzeria da Vincenzo, numero 7909, 7909. Sono io! Voglio, questa è la pizzeria, le manicotti e i buchi. Ok, numero 7.932, 7.932, 7.932, 7.931, 3.1! E' un po', e un po'. Ma quanti ne hai, dimmi te? Ancora due. Forca miseria, vai a casa, va. Tutti da Bruno. Se volete comprare, anziché venire allora dal Mario, andate da Bruno a prendere i prodotti per la bicicletta. Guardate che qua c'è, un bono per un chilo di mignon, quindi un bono per un chilo di mignon dal Porto delle Fravole, che ho prodotto un chilo di mignon. no, sono 38 euro, eh ragazzi. Quindi, 7.990. 7.990. Tutta l'idea. Questa è la mia amica. E' la mia amica. E' la mia amica. E' un'altra, c'è ancora un'altra. Questo invece è sempre dal Porto delle Fravole, è buono per un aperitivo, più prodotti. L'abitivo, attenzione, non è per uno, è per quattro persone. I vini sempre prodotti dalla parrucchiera, numero 7.915. No, non potete fare i pregoli. Dai, ma non potete fare i pregoli. These are ... Cos'è? Da, la camicie? Stiamo calcati. Ne apri due. Tagliamo ancora un chilo. Tagliamo ancora questo. Perciò che si chiede. Usiamo ancora un chilo di mignon, quella è sempre prodotti da parrucchiera. numero 7.914, 7.914, questi rombini ne accontentiamo tutti così sono fonte, voi bene, allora abbiamo quattro margherite offerte dall'arcobalino pizzeria che è in casa Ronate, che è l'ultimo prodotto Glam dalla padochiera e andiamo con 7.916, 7.916, il prodotto per i capelli, bellissimo come questo, quello del ballet, San Galli Store che offre 15 euro per prodotti, anche dico io, di agricoltura, dove il genere, più abbiamo il buono pizza del ristorante pizzeria da Vicenzo, numero 7.924, 7.924, eccolo, la pizzeria è fradate, 10 euro di buono pizza, e questo qua è San Galli, che è questo qua che è sull'angolo, che vende prodotti per il giardino... non è niente? Ok, allora, arrivederci, salutiamo l'ambulanza, per qualcuno non è intervenuta nella nostra manifestazione, andiamo con un'altra cassetta di mele, 7.935, 7.935... Allora, altra cassa di mele, 7.986... Allora, qui ci sono le uomini che hanno lasciato le donne evidenti perché sono più fortunate, che è un altro negozio storico di Ronade in centro, quindi 7.954... 7.954... 3, 2, 1... passiamo al prossimo numero... 7.918... 7.918... eccolo... ok... siamo quasi addirittura da Rio, cambiamo sempre le mele per essere Gasparini... 7.919... sono gli ultimi quattro premi, abbiamo due certi, poi abbiamo il braccio a letto e poi abbiamo inizio... pronti? Pronto? 7.975... 7.975... e vi sentite, domani lo porto a lavoro eh... l'altro cesto 7.967 7.900, eccolo là in fondo che arriva allora adesso passiamo al braccialetto offerto da punto oro è il valore di oltre 300 euro e il numero 7.900 9.900 30 no 39 30 manca 2 3 7.933 7.933 non mi dite che non c'è quello che ha ragione è mio non c'è no no ma quanti siete il fatto che parla di la prossima volta che restatevi arrivare con almeno 500 euro di sponsorizzazione se no quel cavolo che mi scrivo la borsa non ci penso a niente e adesso abbiamo la bicicletta offerta molti centri di battaglia come al solito come andiamo a lui mentre è presidente anche della società di direttatistica di Leonardo Certino e abbiamo 7.9 7.9 2 e quindi possiamo andare dall'1 dallo 0 al 9 qui 7.9 2 7.9 2 7.9 2 1 7.9 non c'è il numero possiamo andare a casa 7.920 7.920 7.920 7.920 7.920 ed è l'lame no aspettate aspettate andare perchè il signor Giaffarelli non accettare il signore qua e quindi rimetti Ich so bravo Quindi ripartiamo ancora Peccato vedremo in stammer谷 però va bene ci andiamo affortunato 7.950 9 7.949 6.950 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